Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dall'A11, dove in direzione Firenze ci sono ancora code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Sempre in A11, stanotte in orario 21.6, per chi proviene da Pisa resterà chiuso il ramo di allacciamento con l'A1 verso Bologna. Per lavori notturni, in A1 stanotte in orario 21.6, chiuso lo svincolo di Firenze Nord in entrata in direzione Bologna e in uscita provenendo da Roma. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze, fino al 18 marzo, Via dei Giacomini resterà chiusa da Piazza degli Antinori a Via delle Belle Donne per manutenzione interna di un fabbricato. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!